Come già riferito per Ghelas ci sarà una nuova proroga di sei mesi. L'ufficialità è arrivata ieri con la delibera varata dall'Aggiunta Comunale. La scelta era quasi obbligata in attesa del bilancio di previsione 2022 del Comune. Il nuovo contratto in realtà è stato definito ed era pronto per arrivare in aula consigliare il Collegio dei Revisori, però a posto delle osservazioni ritenendo necessaria la copertura del bilancio comunale. Negli uffici municipali non sono mancate valutazioni piuttosto in controtendenza e la dirigente Alberto De Petro ha dato piena garanzia delle coperture. L'Aggiunta però ha optato per attendere congelando il nuovo contratto. La proroga a Ghelas potrebbe venire meno ben prima dei sei mesi previsti. Il bilancio di previsione dovrebbe essere approvato entro la pausa estiva. Da quel momento in poi ci sarebbero tutte le condizioni probabilmente per portare in aula il nuovo contratto triennale. Con la proroga l'amministrazione comunale ha autorizzato la disponibilità di somme per circa 2 milioni di euro a copertura delle attività della multiservizi. Chiaramente l'ennesima attesa per il nuovo contratto non fa gioire il manager Francesco Trenito che punta molto sulla programmazione che a lungo termine potrà versi solo con il contratto approvato. Non dovrebbero esserci conseguenze particolari a livello di guida della società visto che Trenito ha la piena fiducia dell'avvocato Lucio Greco e ha lavorato sul nuovo contratto accelerando anche rispetto a tempi non sempre celeri degli uffici comunali. La prosecuzione dell'incarico non sembra in dubbio e Trenito ha anche ottenuto l'approvazione del bilancio aziendale disposta ad inizio settimana. Certamente non si aspettava che il nuovo contratto andasse ancora una volta incontro ad uno slittamento questa volta dovuto a una scelta proprio del collegio dei revisori.